...desso ha tutto derby. La domenica vola via in maniera diversa per Palermo e Catania. La febbre del sabato sera del Barbera comincia a salire, così come le tensioni in casa a Rosanero che non mancano. Tre reti subite oggi contro il Bologna. Molto nervosismo, Barreto e Iucani che salteranno la sfida con il Catania. A Gasperini e Lomonaco l'arduo compito di recuperare la testa dei giocatori. Sotto il Monte Pellegrino invece arriverà un Catania tonico con una classifica pazzesca alle spalle. 19 punti, sesto posto e bel gioco. Maran gongola con una mediana scoppiettante con Lodi e Almiron tornato cecchino ed un Gomez incontenibile. Preoccupa Bergessio ma si vedrà nei prossimi giorni. Il Palermo si affiderà al fattore casa, 9 punti in 6 gare. Punti pesanti ma mai come quelli del Catania al massimino. Quota 16 punti in 7 gare con 5 vittorie in cassaforte. Il tabù delle due squadre persevera però in trasferta dove entrambe cercano ancora il primo successo in stagione. Numeri, cifre e fattore mentale. Questi i primi ingredienti. Sentirà la pressione il Palermo nel dover vincere per forza? Il Catania riuscirà a essere cinico e lucido? Approfittando del momento no dei rosa? Vinceranno i nervi o la tecnica? Il derby è già cominciato. Il Catania riuscirà a essere cinico e lucido.